Siccome dalla protezione civile e dal dipartimento hanno risposto che ci avevano mandato 700.000 mascherine, amici cari vediamo che capirci bene, quelle di cui parla la protezione civile sono queste mascherine, le 700.000, in Campania sono arrivate 552.000 mascherine, queste cose ci vuole veramente una fantasia accesa per definirle mascherine. C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano, mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea, mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme, ma è una festa di laurea, ma fatela fra due mesi, tre mesi, quattro mesi, è incredibile.